Ciao Giovanni, ciao a tutti i miei colleghi e colleghe relatrici, ciao a tutti gli studenti presenti, mi scuso molto per non poter essere con voi oggi, ma sono impegnato a Roma con la RAI per un progetto di divulgazione e spero presto di poter venire, di tornare anzi, come sempre con grande piacere con voi a Lugano. Io penso che la scienza abbia bisogno di narrazioni, abbia bisogno di colpire l'immaginazione e la Terra dopo di noi è soltanto questo, sostanzialmente è un esercizio, è una provocazione, se vogliamo, letteraria, quindi esagerata, non è apocalittica. Si tratta semplicemente di immaginare che da domani mattina gli esseri umani non ci siano più e provare a calcolare, qui sì, in modo rigoroso e scientifico, che cosa succederebbe dopo un giorno, dopo una settimana, dopo un mese. E quello che si scopre è che la biodiversità tornerebbe a rifiorire rigogliosa, che la natura ben presto si riprenderebbe gli spazi che le abbiamo tolto, come tra l'altro involontariamente abbiamo visto durante il primo lockdown, il secondo lockdown, abbiamo visto come velocemente piante e animali tornano a riprendersi i loro spazi, come l'acqua e l'aria si ripuliscono piuttosto velocemente. Questa è l'idea, provare ad immaginare la nostra assenza e che può essere, come dire, un esercizio rivelatore, perché da un lato ti accorgi subito di quanto è forte il piede che noi schiacciamo sulla biosfera, quindi proprio l'impronta, come si dice letteralmente, degli esseri umani sulla Terra. Da un lato ti rendi conto poi di quanto sia duratura questa impronta, quindi se anche noi sparissimo domani mattina, le plastiche sarebbero in circolazione ancora per 70.000 anni, il clima prima di tornare ai suoi cicli naturali ci metterebbe centinaia di migliaia di anni, milioni di anni addirittura per avere la scomparsa degli elementi radioattivi che noi abbiamo disseminato nel mondo. Insomma, quanto è duraturo il nostro impatto sul pianeta. E poi possiamo fare molti altri esempi, perché questa impronta non è solo duratura, ma è in qualche modo pervasiva e in modo indiretto puoi fare delle scoperte anche sorprendenti. Una che a me colpisce sempre molto è noi non ci siamo più e il 60% della massa di tutti i mammiferi sulla Terra viene abbandonata a se stessa. Perché? Perché quasi due terzi di tutti i mammiferi che vivono al mondo sono animali chiusi in allevamenti intensivi, che in assenza di esseri umani verrebbero abbandonati a se stesse, diventerebbero prede di qualsiasi dell'ambiente, e ovviamente di altri carnivori e così via. E' una massa gigantesca, enorme, lasciata a se stessa, abbandonata. Questo è impressionante, perché ti fa capire come, se noi valutiamo il peso di tutti i mammiferi sulla Terra, solo il 4% è fauna selvatica. Il resto siamo noi e gli animali che ci mangiamo. 4% per tutti, che ne so, gli ippopotami, i rinoceronti, le giraffe, gli elefanti, tutta la fauna selvatica che conosciamo, è ridotta ormai al 4% della biomassa dei mammiferi. Questo è impressionante, così come è impressionante scoprire, questo è uscito dopo il libro, quindi non l'ho inserito nel mio libro, una scoperta impressionante di alcuni mesi fa, per cui il peso di tutti gli oggetti umani, il peso, cioè, di tutte le cose, gli edifici, le infrastrutture, gli strumenti, i computer, i telefonini, tutto, tutto ciò che noi abbiamo artificialmente costruito, nell'anno 2020, cioè l'anno pandemico, ha eguagliato la biomassa terrestre. Cioè, tutti gli oggetti umani, oggi, pesano tanto quanto tutte le piante, tutti gli animali, virus, i batteri, messi insieme. Non era mai successo in tutta la storia del mondo. E questo davvero è qualcosa che deve farci pensare, perché l'antropocene, poi, sostanzialmente, è questo. È il fatto che abbiamo impregnato il mondo con gli effetti delle nostre azioni e con gli oggetti umani. E poi, soprattutto, io credo che la morale che noi impariamo dalla Terra dopo di noi è che non siamo indispensabili. E questo non è un messaggio di disperazione, è un messaggio nichilista. Al contrario, il fatto di capire di non essere necessari a questo pianeta ti illumina sulla fortuna che abbiamo avuto ad essere qui. Noi siamo parte di questo sistema di relazioni che è la biosfera. Purtroppo lo abbiamo visto a nostre spese con la pandemia, perché la pandemia è stata proprio la rivelazione di una connessione tra noi e gli agenti patogeni che ci eravamo quasi completamente dimenticati di avere. Quindi capire di non essere indispensabili significa capire di essere privilegiati, di essere fortunati, ma di avere anche una responsabilità. Cioè capire che non abbiamo alcun diritto di consegnare ai nostri figli un pianeta, e cioè agli studenti, anche nostri e le future generazioni, un pianeta più difficile, più instabile, più costoso e meno ospitale di quello che noi invece abbiamo ricevuto dai nostri padri e dai nostri nonni. Quindi la Terra dopo in noi è sostanzialmente un esercizio di immaginazione per aprire, per toccare le coscienze e i sogni delle persone in un modo narrativo, ma scientificamente rigoroso. Quando si parla di transizione ecologica, che oggi è un tema ovviamente chiave in tutti i documenti internazionali, negli incontri e così via, oggi finalmente si comincia a discutere del valore economico di quello che sta succedendo. Per esempio, noi oggi abbiamo gli ultimi dati delle riviste scientifiche che ci dicono che la biodiversità, quindi il numero complessivo di specie nelle varie famiglie, insomma, di tutti gli esseri viventi, è ormai crollata di più del 35%. E nella seconda metà del Novecento, dal 70 al 1970 a oggi, diciamo, nell'ultimo mezzo secolo, c'è stata un'accelerazione fortissima. Tanto per dare un solo dato, che secondo me è più che sufficiente. Negli ultimi 50 anni, la diversità delle forme di vita che vivono, per esempio, nelle acque dolci del pianeta, quindi fiumi e laghi, è diminuita dell'83%. Una strage. Cioè, noi abbiamo lasciato nelle acque dolci del mondo soltanto meno del 20% degli animali che ci vivevano 50 anni fa. Questo ci dà un'idea, no? E quanto ci costa questo? Allora, quando noi nei documenti internazionali diciamo che la biodiversità è un capitale naturale, perché adesso anche nel piano italiano di ripresa e resilienza compare questo termine, va benissimo, finalmente, è un passo avanti. Però dobbiamo aggiungere due cose. Primo, la biodiversità andrebbe difesa anche se non fosse un capitale di niente. Nel senso che c'è anche una ragione di principio, una ragione evoluzionistica. La biodiversità è un valore che prescinde da noi. Non l'abbiamo fatta noi, non è una risorsa a nostra disposizione e quindi non abbiamo alcun diritto di distruggerla nel modo che ho detto prima. Però tralasciamo questo, diciamo, questo argomento di principio. Mettiamo che dobbiamo valutarlo dal puntista economico. Ecco, va valutato quantitativamente, non soltanto come capitale da sfruttare, ma anche capire che sul piano economico se noi continuiamo a ridurre la biodiversità, paghiamo un costo, pagheremo un costo altissimo. Due esempi molto veloci. Un costo sono i servizi ecosistemici. I servizi ecosistemici sono dei servizi fondamentali che gli ecosistemici regalano, perché non li paghiamo, non sono computati, non sono messi a conto praticamente da nessuna parte, ma se noi abbiamo l'acqua potabile, se noi abbiamo il suolo che si rigenera, se noi abbiamo suoli fertili per l'agricoltura, se abbiamo l'ossigeno da respirare, eccetera, eccetera, quelli sono tutti i servizi che ci vengono forniti dalla biodiversità. Questo cosa significa? Che se io continuo a distruggerla in quel modo, questi servizi diventeranno più rari, sarà più difficile averli, per esempio l'impollinazione degli arbori da frutto dovuto agli insetti, che sono anche quelli in fase di calo, di riduzione di più del 30%. Se quei servizi diventeranno rari, per le leggi del mercato, a un certo punto dovremo pagarli, cioè verranno messi in un computo. Dobbiamo seriamente mettere, come dire, sul piatto questi elementi, come alcuni economisti, penso ad Asgupta in Inghilterra, con il suo report appunto sui costi della distruzione dell'ambiente, sta dicendo. E poi, secondo esempio, molto semplice, i dati scientifici più recenti, quelli usciti, diciamo, da luglio a settembre, quindi di ultime settimane, sulle riviste scientifiche, ci dicono una cosa molto chiara, che verrà discussa, spero, nelle prossime assise internazionali. Anche rispetto agli scenari fatti dell'IPCC, i dati reali, cioè l'andamento effettivo, è peggiore, cioè stiamo andando peggio addirittura dello scenario previsto dall'IPCC, rispetto al climate change e a queste dinamiche globali. Questo vuol dire fenomeni atmosferici estremi che diventano più frequenti e più violenti, significa che tutto quell'insieme di effetti che già conosciamo arriverà prima, quindi ci costerà molto caro. dobbiamo capire una volta per tutte dal punto di vista economico, qui io penso che il pensiero economico debba davvero riflettere molto radicalmente su questo, che se noi non agiamo subito oggi, anche con un investimento di risorse, quindi pagando e facendo dei sacrifici, tutti i dati ci dicono che quello che poi pagheremo dopo, se non interveniamo oggi, sarà molto di più. Quindi ci conviene agire subito, anche se questo richiede un investimento di qualche percentuale del PIL, perché altrimenti pagheremo molto di più dopo. Quindi questo è un tema molto serio che purtroppo, devo dire, una parte del pensiero economico ancora oggi continua a sottovalutare. Grazie a tutti.